Sì, miei cari giovani, una storia vi voglio raccontare sotto forma di poesia la voglio narrare. C'è un paese dove si dicono tante frottole, questo posto si chiama Grottole. Questo è un piccolo paesello, diciamo pure bello, però c'è un piccolo vizietto di affibbiare i soprannomi a ogni persona. E quindi fu per questo che fin da quando ero piccina mi chiamavano allegrina. Io piangevo, mi disperavo all'asilo, non volevo più andare. Ma poi un giorno, pensa che te ripensa, ho fatto di quello che sembrava un difetto una specie di parzelletta. Quando qualcuno mi presentava, io dicevo, piacere, cenzino alla allegrina, e tutta la tensione accumulata si trasformava in sonore di sante. Dunque, miei cari giovani, un consiglio vi voglio dare. Se qualche cosa vi sembra che vada male, non vi dovete scoraggiare, ma anzi qualcosa vi dovete inventare. Perché la vita è bella e va vissuta allegramente, alla faccia dell'agenda. Grazie.